Dopo aver chiuso le frontiere, la Russia offre assistenza alla Cina che sta combattendo contro il coronavirus. Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma al leader cinese offrendo aiuto, ma anche dimostrando fiducia verso le misure adottate dalla Repubblica Popolare. La Cina ha infatti stanziato 3,5 miliardi di euro per lottare contro l'epidemia. Arriva anche il mea culpa del segretario del Partito Comunista Cinese di Wuhan, che ammette per la prima volta dei ritardi nella gestione dell'emergenza. Se fossero state adottate prima le misure di controllo, il risultato sarebbe stato migliore di quello attuale, ha detto alla TV cinese. Intanto i due ospedali specializzati di Wuhan rispetteranno i tempi record di costruzione e saranno pronti il 3 e il 6 febbraio. Le strutture potranno accogliere anche i parenti sul modello dell'ospedale costruito a Pechino contro la SARS.